ciao ragazzi stavo bene tutto a posto ho fatto un'altra mini vacanza ho avuto un po' di nevragia ma vi ringrazio per tantissimi messaggi Giuse tutto a posto stai bene si augura a tutti salute e prosperità anche al peggior nemico ricordatevelo anzi ho visto un video di un giornalista che parla dell'Inter eh che è in ospedale gli auguro una pronta guarigione perché davanti a queste cose eh cascano gli sfottò cascano le antipatie casca tutto quindi salute e prosperità a tutti a chiunque a tutti questo deve essere chiaro perché il calcio dovrebbe riunire non dovrebbe dividere soprattutto gli sfottò ci stanno eh mi fa piacere vedere che molte persone si sono dissociati da quello lì che dice di avere capelli che ha quattro fettuccine incollate con l'olio di semi nel capo pensa ad avere anche capelli io sono rasato da vent'anni ma i capelli ce li ho tutti non ho bisogno nemmeno di farti vedere che ho i capelli io non mi vergogno di nulla quello si dovrebbe vergognare sei te perché chi parla di Juventus si sta dissociando da te quindi tutti i canali tranne due o tre che per fare qualche visual devono parlare eh male dell'Inter perché io ho fatto visionare i vostri canali voi canali da sedici diciassettemila iscritti se parlano della loro squadra del cuore ovvero sia della Juve fanno mille duemila iscritti se parlano male dell'Inter ne fanno sei settemila io fortunatamente non sono alla canna del gas come voi non ho bisogno di parlare male della Juventus per fare né iscritti né visual quindi ho solo risposto a qualche provocazione ma a te che ti sei collato quelle quattro fettucine c'hai una fettucina incollata una ogni mezz'ora te pensi di avere una bella capigliatura? Te pensi di poterti pettinare con quei capelli? Cosa hai contro i rasati? Poi te sai quanti capelli ho in testa io? Ne hai mai visto in foto? Qualcuno lo ha definito la vergogna di tutti i tifosi della Juventus si stanno dissociando tutti i giuventini da qualche canale e ho piacere perché quelli sono canali solo e seminano odio che fanno falsa informazione e che devono cose che non esistano ho deviato anche troppo tempo a fettucina oliata ora andiamo al signor Gobbizio che comunque a Firenze è così definito il signor Gobbizio il quotidiano la Repubblica spara una bomba clamorosa ovvero sia l'uomo da 2,3 miliardi di debiti che voleva Milano e Juventus ma ha comprato la Fiorentina a Firenze lo chiamano Gobbizio il quotidiano la Repubblica si occupa di Rocco Commisso e traccia un inquietante ritratto del magnate americano questo è uno strancio dell'articolo titolato l'uomo da due dal 2,3 miliardi di debiti che voleva Milano e Juventus ma che ha comprato la Fiorentina e questo è un articolo che posterò non ve lo sto a leggere è un articolo che posterò in descrizione sotto i messaggi parla di tutti i problemi finanziari di questo signore che dice l'Inter non si doveva nemmeno iscrivere al campionato a quanto pare se ho ben capito parla di tutti i problemi economici della sua delle sue società quindi caro Gobbizio prima guarda a casa tua e poi guarda a casa di gli altri perché sono stati fatti dei controlli dall'UEFA dalla CONSOB hanno detto che è tutto regolare il sistema calcio permette di avere debiti perché senza debiti ci sarebbero la metà della metà delle squadre nel calcio europeo compreso Barcellona Tottenham indipendentemente dai fatturati e così via quindi ciao Gobbizio la Repubblica ti ha messo a sedere come si dice ti ha mandato a spendere come si dice anche dalle mie parti quindi ora posterò l'articolo leggetevelo ma qualcuno di voi è uscito qualche ora fa ne era già a conoscenza sull'Inter ragazzi finalmente riparte il campionato la nazionale a me non dà emozioni a me dà emozioni solo ed esclusivamente l'Inter poi è normale io la nazionale la guardo mi fa piacere la guardo non sempre devo essere sincero mi fa piacere se vince non le tifo contro i tanto criticati i giocatori dell'Inter mi sembra che abbiano fatto vedere di che pasta sono fatti bastava metterli caro luciano nel proprio ruolo a parte bastoni e da centrale ha offerto un'ottima prestazione lo vuoi riprovare centrale riprovalo centrale per me bastoni è un grandissimo braccetto può fare anche centrale all'occorrenza perché è un grande giocatore ma in panchina c'è buongiorno e secondo me come centrale più completo di bastoni io sono sincero bastoni ha un top a livello mondiale da quell'altra parte questa è una stagione fondamentale soprattutto per un motivo devo chiudere perché avendo avuto una nevralgia ragazzi dopo un po ora molto meglio ma duro fatica a parlare dopo circa sei minuti è una stagione ascolta bene il lettrio è una stagione fondamentale perché nel calcio nella vita in generale ma soprattutto nel calcio è difficile ripetersi perché nell'annata che ti riesce tutto possiamo prendere le ultime due annate dove fondamentalmente all'inter è riuscito tutto che ha dato il mille per mille gli avvezzari ti studiano quando ti riesce tutto quando sei forte quando sei stimato quando sei elogiato gli avvezzari ti studiano e ti studiano in maniera approfondita quindi lo stanno dicendo un po tutti che è difficile ripetersi quindi noi che stanno dovremmo durare ancora più fatica per eh di proporre quel calcio spettacolare che tutti invidiano all'inter perché vedere giocare l'inter è una goduria io mi eccito a vedere io da amante del calcio quando gioco all'inter mi diverto cosa è con parrucca con Conte per esempio ho sfondato due divani mi addormentavo durante le partite dell'inter cosa mai successa con i zaghi mi diverto e questo lo voglio vedere io quando accendo la tv perché allo stadio vado una volta due l'anno purtroppo è solo per un discorso fortunatamente non per problemi economici ma perché con i figli la moglie rompe le scatole è un problema andare allo stadio sette otto volte dieci volte all'anno mi facevo prima tra l'altro saluto l'inter club di siena insieme per chi fosse di sera andatevi a scrivervi all'inter club di siena sono dei ragazzi seri ben strutturati e anzi mandatemi un kit in omaggio scherzo il kit degli inter club ma mandatemelo dio e a parte i scherzi dai e quindi questa è una è una stagione fondamentale monza derby ora ci aspetta di fari tornare subito sul pezzo io sono fiducioso come vedete mi spilla il telefono di lavoro e quindi ragazzi ci qui è un bellissimo ciao inter Grazie a tutti.